Il fresco dall'autunno arriva? Ora c'è un appuntamento. L'autunno, in realtà, sta già facendo tutto nelle ultime ore per conquistare il bacino del Mediterraneo. Ma ha a che fare con un'alta pressione africana testarda che non vuole sapere di ritirarsi verso le latitudini più adatte alle sue origini. Questo è motivo per cui L'Italia è sostanzialmente diviso in due. Con il nord una parte del centro dove all'inizio della settimana ci sono stati primi disturbi causati dal flusso atlantico instabile nell'abbassamento con sud ancora pienamente nelle curve di alta pressione un contesto estivo. Tutto estivo. Con valori termici che arrivano a toccare punti pari vicino 3738 gradi Celsius, come nelle aree interne siciliane apuliane, sulle coste ioniche lucaniane. Nel breve. Stiamo parlando di valori termici eccezionalmente al di sopra degli standard climatici del periodo.